Siamo sul campo dello stadio Gran Sasso d'Italia. Qui ci sarà un grande progetto che è stato spiegato in conferenza stampa dai vertici di chi lo gestisce dell'Aquila 1927, dal sindaco Biondi e che hanno spiegato come questo stadio non sarà più soltanto uno stadio all'interno del quale ci saranno tantissimi servizi, ci sarà una rifunzionalizzazione, sarà totalmente ecosostenibile e ci saranno anche tante novità dal punto di vista dello sport. Non soltanto del calcio, del calcio a 11, ma anche del calcio a 5, del padel, del tennis e tante altre attività. Grazie a tutti. Siamo sul campo dello stadio Gran Sasso d'Italia. Siamo qui con Massimiliano Barberio in veste, duplice veste, perché è sia dirigente dell'Aquila 1927, ma fa anche parte del team di persone che hanno progettato come diventerà il nuovo stadio Gran Sasso d'Italia. Allora, lo chiediamo proprio a lui, come cambierà? Allora, lo stadio è già un piccolo gioiello che è senza barriere, è uno dei pochi stati in Italia, però sarà parte di una riqualificazione generale che mi piace chiamare come rigenerazione urbana di tutto il quartiere, di tutta questa zona, perché sarà oggetto di interventi sia stradali, sia di dotazione di parcheggi, sia di attività all'interno delle strutture che si andranno a realizzare, che renderanno lo stesso fruibile sette giorni su sette, non più con la vecchia concezione di stadio che si gioca la domenica e gli altri giorni sta fermo. E quindi sarà una, soprattutto la progettazione è spinta molto sulla sostenibilità, sia ambientale sia energetica, e quindi fa parte proprio di un nostro progetto che sono quattro anni che va avanti, dal lockdown che è partita questa pazzia e oggi siamo proprio contenti di averlo reso pubblico. Entro la fine di marzo partiranno i lavori nella zona nord, che Daniele se puoi inquadrare è quella che vediamo lì, che cosa andrà in quella zona? Allora nella zona nord è prevista la demolizione dello scheletro che vedete alle mie spalle e la creazione dei nuovi spalti, quindi coperti, perché saranno tutti spazi coperti per la tifoseria di casa e nella pancia di questa nuova struttura ci sono tutti i locali di servizio, quali spogliatoi, locali tecnici, locali di riabilitazione che serviranno il nuovo campo che andremo a ripristinare, quindi il campo A11, ci sarà la realizzazione di un campo da padel coperto e un campo polivalente che potrà essere utilizzato dal calcio A5, dal tennis, dal volley, oltre che una nuova stecca che è rospicente il parcheggio che ospiterà bar, ristorante e una foresteria. C'è una cosa che voi avete sottolineato nel corso della presentazione di questi lavori che, lo ricordiamo, per quanto riguarda la zona nord a Montano ha un totale di 10 milioni, invece per quanto riguarda il totale, diciamo, dello stadio è 17 milioni, non è solo calcio, cioè questo non è solo uno stadio, non c'è soltanto il discorso del campo che stiamo pestando, calpestando noi oggi ma c'è tanto altro. Hai detto bene, il motto e lo slogan del non solo calcio lo abbiamo legato al progetto crowdfunding, che è fondamentalmente un'idea che va a valorizzare tutto quello che abbiamo fatto e va a spostare, a patrimonializzare questa nostra società anche su asset immobiliari e uno di questi è proprio lo stadio, quindi chi parteciperà alla nostra raccolta fondi non farà altro che dare una mano a queste iniziative che vanno oltre il campo, oltre la squadra, oltre il mercato, oltre i giocatori. Ed è quello anche che ha sottolineato anche il sindaco Biondi, c'è grande partecipazione e grande sinergia anche con tutte le strutture comunali. Sì, sì, perché guarda, un progetto del genere non è fattibile soltanto da una componente del progetto L'Aquila, l'ho detto in conferenza, il progetto L'Aquila significa vedere in maniera olistica tutto, dalla stampa, da voi, da noi società sportiva, dall'amministrazione, dagli uffici comunali, da tutto quello che gira intorno allo sport e alla cultura. Goffredo Jukic, la presentazione del nuovo stadio Gran Sasso d'Italia riguarda però anche l'equity crowdfunding, perché lo avete definito bene, l'equity crowdfunding, che partirà il 21, servirà per tante cose all'atere del campo. Certo, l'equity crowdfunding, come abbiamo specificato anche in conferenza stampa e come abbiamo detto a Roma nella presentazione generale, non andrà a sostenere la parte sportiva corrente, quindi con questi fondi non andremo a pagare stipendi dei giocatori, acquistare attaccanti e quant'altro. Quello lo faremo e lo facciamo già con la gestione normale del nostro club. L'equity crowdfunding servirà a sostenere progetti di potenziamento della società all'atere dal campo, quindi anche lo stadio Gran Sasso, in cui saranno investite anche lì delle risorse, ma non solo. Penso all'academy center, la possibilità di costruire impianti sportivi, spogliatoi e tutto quello che è necessario per rendere questo club più forte, innanzitutto fuori dal campo, perché se diventiamo forti fuori dal campo poi lo saremo ovviamente anche all'interno del rettangolo verde. Il 21, che giorno sarà? Intanto già ci sono in tutti questi giorni, insomma, c'è stato l'early bird, quindi chi voleva ha potuto prenotare, diciamo, le proprie quote e cosa succede dal 21? Allora, intanto abbiamo un riscontro molto positivo dalla piattaforma Mama Crowd su gli early bird, oltre 450 investitori hanno scelto di puntare su questo progetto. La cosa che mi preme sottolineare è che molti non provengono dal nostro territorio e quindi vuol dire che la nostra società come modello aprivista è riuscita ad aprire appunto, aprire un nuovo percorso, tale da interessare investitori non aquilani intorno al progetto dell'equity crowdfunding. Il 21, questi early bird, che sono sostanzialmente delle prelazioni di quote, si devono trasformare, speriamo più numerosi possibile, in quote reali, in sottoscrizioni reali, vere, in bonifici e in entrata di capitali all'interno della società. Vi siete posti un obiettivo? Quanti? Allora, come si dice, come dicono i tecnici, noi facciamo riunioni con la piattaforma, loro parlano di gol, anche utilizzando un termine sportivo. Il gol è 150.000 euro, l'obiettivo massimo sono 2 milioni e mezzo di euro. Io sono relativamente fiducioso che il gol lo raggiungeremo ampiamente e poi quello che verrà in più sarà utile a noi per rinforzare il nostro club. Vogliamo dare tutti i riferimenti per chi volesse partecipare? Allora, chi può partecipare intanto può venire qui allo stadio Gran Sasso, dove abbiamo allestito uno sportello con delle operatrici che raccolgono gli early bird e che poi eventualmente aiuteranno le persone che ne faranno richiesta anche a fare il bonifico, a fare la sottoscrizione reale di quote. Poi in realtà è una procedura molto semplice sulla piattaforma di Mama Crowd, basta iscriversi con la propria email, è un procedimento semplice. Abbiamo fatto anche dei tutorial video per aiutare le persone che magari non vorranno venire qui a farlo di persona. Anche a livello social siete, lo sappiamo, assolutamente molto presenti. Uno slogan, in poche parole, perché partecipare all'equity crowdfunding dell'Aquila 1927? Perché questa è una società, appunto, noi stiamo inventando un nuovo modo di fare calcio. Il calcio all'Aquila in passato, ma anche in altre piazze in questo momento è sempre stato affidato alla buona volontà degli imprenditori, alla buona volontà o alla fortuna dei gruppi che periodicamente prendono in mano la società. La nostra società ha la migliore garanzia del mondo che è gestita interamente da tifosi. Quindi siamo noi quelli che faremo di tutto per dare continuità sportiva, faremo di tutto per ottenere i risultati migliori possibili. Poi noi abbiamo l'ambizione di, non la dico quella lettera, perché poi mi rimproverano, però è chiaro che poi c'è il campo, ci sono gli episodi, c'è la fortuna, la sfortuna, i limiti, i nostri, che dovremmo essere bravi a superare e a migliorare. Sindaco Biondi, una settimana importante per l'Aquila 1927, c'è la presentazione dei lavori qui appunto allo stadio, anche il crowdfunding. Il calcio fa parte di questa città? Assolutamente, lo sport è un elemento fondamentale per le comunità locali, per la crescita dei nostri giovani o per la promozione dell'immagine della città, come nel caso dei grandi successi che stanno caratterizzando le stagioni del calcio, del rugby, non soltanto, in passato abbiamo avuto la promozione del basket, il Paganica Rugby in Serie A, insomma c'è un grande movimento che è un movimento soprattutto di crescita sociale del territorio e noi stiamo investendo molte risorse nell'impiattistica sportiva proprio per sostenere questi sforzi. Due progetti importanti, questo del Gran Sasso d'Italia, ma anche i fattori, peraltro in queste ore stanno montando le torri faro. Sì, stiamo montando le torri faro, ci prepariamo ad eventi di caratura internazionali, ci sarà un appuntamento importante e straordinario per il trentennale del mitico scudetto del 94, fra l'altro il fattore è un tempio dello sport, in particolar modo del rugby e rappresenta un monumento di pregio assoluto per la città dell'Aquila. Grazie a tutti!